L'ambasciatore britannico Darroch è diventata persona sgradita alla Casa Bianca e è stato persino revocato l'invito alla cena con l'emiro del Qatar, che vedete nelle immagini, ospite di Trump. Il presidente non ha mandato giù i commenti privati pubblicati dal Daily Mail dell'ambasciatore negli Stati Uniti, messaggi diretti al governo britannico in cui Trump veniva definito inetto incompetente Vanesio e Bugiardo. Il ministro degli esseri britannico Jeremy Mianta ha preso le difese del suo ambasciatore dicendo che se diventasse lui il primo ministro il diplomatico resterebbe. Ha cercato di buttare acqua sul fuoco la portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Abbiamo un rapporto speciale e strategico con il Regno Unito che va avanti da molto tempo ed è un rapporto più grande di ogni individuo e di ogni governo. È qualcosa che ha superato il test del tempo e continuerà a farlo. Se le offese dell'ambasciatore britannico sarebbero dovute rimanere riservate, Trump invece usa il suo profilo Twitter pubblico per insultarlo. Lo definisce stravagante e pomposamente stupido.